Siamo alla diciannovesima giornata di campionato di seconda categoria a girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa l'Avis Burgentia, dove il Burgentia vincerà per tre reti a uno. Inizia così il primo tempo, dove il Pomarico regge bene le incursioni della seconda in classifica, bloccando più volte le loro ripartenze. Ma nonostante l'impegno del Pomarico, il Burgentia è bravo a sfruttare una disattenzione difensiva e a portarsi in vantaggio. Finirà così il primo tempo con il parziale di 1-0. Nel secondo tempo il Pomarico alza i ritmi e sfiora più volte la rete, ma gli avversari segneranno altre due reti, chiudendo effettivamente la partita. Ma è proprio sul finale di gara che il Pomarico segnerà il gol della bandiera, con difesca direttamente da calcio di punizione. La partita poi finirà con il risultato di tre reti a uno. Finita la partita, l'atletico Pomarico organizza il famoso terzo tempo voluto fortemente dal direttore generale Pontino, insieme al presidente Epifania e al segretario Castaldi. L'atletico, nonostante la sconfitta, dimostra la vera natura del calcio e dello sport. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.